E' un'altra parte di un'altra parte. E' tuo dovere riportarlo ai suoi simili. Dove? Dovrai scoprirlo tu. I canti di epoche antiche narrano di battaglie tra Mandalore il Grande e un ordine di stregoni chiamati Jedi. Ti aspetti che cerchi in tutta la galassia il pianeta di questa creatura e che la consegni a una stirpa di stregoni nemici? Questa è la via. Questo non è posto per un bambino. Dove vado io va a lui. Così ho sentito. Questa è la via. Questa è la via. Grazie.